Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Tascinaccio30 Oggi siamo qui in un nuovo video Ragazzi, sono passati quasi un mese alla top 5 delle azioni migliori su overvoce, la parte 3 C'è quasi un mesetto ragazzi E in tempo di niente ragazzi, ritorna un'altra top 5 delle azioni migliori su overvoce, la parte 4 ragazzi Vediamo ragazzi Niente ragazzi Spero il video vi possa piacere E che dire, vai con il video Ora stompat 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 Ho capito No, 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 no Qualcuno di oggi Mezzogiorno di fuoco Niente ragazzi Il video si è anche con cui E qua Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi Commentate Mettete like E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao